È stata rinviata la sosta natalizia, domani si ricomincia, che Piacenza ci dobbiamo aspettare? Ricominciamo dopo un mese, non abbiamo fatto più partite, cercheremo di proporci in maniera sicuramente diversa dall'ultima in casa, dobbiamo farlo anche perché il risultato è stato negativo e anche perché è una partita importante contro il Gallipoli e speriamo di riuscire a fare i tre punti e avvicinarci nella zona fuori dal play-out. Ieri è stato presentato un nuovo acquisto greco, cosa può portare in più questo giocatore? È un giocatore che ha quantità e qualità, è un ragazzo che io ho già avuto a Verona e quindi conosco già. E' chiaro che in questo momento qui anche lui manca un po' di partite perché si è allenato con la Roma a sei mesi, ha fatto amichevoli, però sappiamo tutti che la partita è completamente diversa. Però ho trovato una buona condizione fisica, tanta voglia di far bene e sono commento che potrà darci un buon contributo. Gallipoli è una bella sorpresa? E lì poi sta facendo bene, dopo l'inizio che sembrava un po' tutto difficile, hanno trovato un assetto che in questo momento dà dei buoni risultati, questo è anche un discreto buon gioco, direi anzi, sia in casa che fuori, quindi bisogna rispettarla, avere grande rispetto per questa squadra e essere bravi.